Dunque persone, me ne prendete almeno una al mese, sempre dopo i pasti e ogni qual volta ne sentite il bisogno. Prima di iniziare vi devo avvisare che questa è una pillola bella grossa, un pillolone, perciò buttatela giù con calma e con tanta 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 acqua. Rieccoci qui oggi con questa seconda pillola analogica dedicata alla Lomografia ed alcuni dei suoi prodotti che tempo fa mi hanno gentilmente chiesto di provare. La Lomochrome Color 92 e il suo bellissimo packaging, guardate qui che bellezza di packaging, c'è l'oro qua, oro! E il Digitalisa Max, di cui purtroppo non si può dire attrettanto del packaging, ma vabbè, te ne sarai bello dentro. La Lomografia è una corrente fotografica nata nel 1992 che racchiude il grosso del suo concetto nel motto Non pensare scatta. Dunque, chi mi conosce si starà chiedendo cosa c'entro io, cosa c'entra la Sara Postoli con questo motto. Nulla! Niente! Niente di più distante da me che in questo momento mi sto anche avvicendando a fare pratica con il banco ottico. Però, quando la sperimentazione chiama, Sara Postoli risponde, meglio ancora se la questione ha una matrice punk. E oggi la Lomografia è così punk che fa il giro! Boia! Sono riempita di paglia! Le loro istruzioni per l'uso, infatti, sono Porta la tua Lomo ovunque tu vada, anche di notte, anche in bagno, sai mai! 2. Scatta senza guardare nel mirino, completamente a caso quello che esce esce. 3. Avvicinati! Fregatene della messa a fuoco, fai come Bruce Gilden, picchi la tua Lomo sulla faccia della gente che incontri. 4. Non pensare! 5. Si veloce! 6. Non preoccuparti nel prima, ma nemmeno nel momento presente. Figurati se ti devi preoccupare del futuro. 7. E se non hai soldi per sviluppare? Non farlo! Tanto, se hai seguito le regole, già tanto che ci sia uno scatto buono! Insomma, ad occhio croce sembra che si tratti di un gioco che ha come unica regola fondamentale il fatto che non ci siano regole. A diventare questa filosofia fotografica del fotografare un dogoio voglio, sono stati due ragazzi viennesi dopo essersi innamorati della Lomo LCA, per la sua classica vignettatura e il suo 32 mm in grado di fornire immagini molto sature. Per farvi un'idea, vi ricordate i filtri Instagram intorno al 2010? Eccala, quella roba lì, però russa. Ma veniamo a noi. La prima cosa che ho fatto è stato provare la pellicola Lomo Chrome 92, che mi è arrivata non in questa confezione di carta, comunque molto bella, ma in questo portarullino metallico molto molto carino carino. Grazie per l'apprezzato omaggio. È proprio un bello oggettino. Devo dire che a gentilezza le persone della Lomo ci danno dentro di brutto. Conoscendo molto bene la mia Yashica FX3 2000 e tutte le ottiche che ho in dotazione, ho deciso infatti di provare a caricare questa pellicola e di fare un primo rullo 35 mm durante la Blue Hour, recandomi ad un Luna Park che annualmente fa tappa in città. Non ho seguito le regole. Perché non ce l'ho fatta all'inizio a seguire le regole? La promessa di questo rullo erano rossi molto vividi e un blu saturo e una grana da 400 ISO ideale per questo momento della giornata, almeno secondo la mia esperienza. Come potete vedere dalle riprese fatte a Luna Park, la luce era bellissima, i colori pure, il contact si ha sempre retto bene l'ora del tramonto e io ero allegra e curiosa di vedere insomma di cosa fosse capace questa pellicola, di vedere se rispondesse alle promesse fatte. E poi io adoro il Luna Park, cioè adoro il Luna Park. Terminati gli scatti, le Lomo persone poi si sono occupate di sviluppare come metodo 541 il mio rullo e di scansionarlo e inviarmelo tramite posta. E l'uomo, l'uomo, l'uomo. E la donna? Il risultato è stato punk, molto punk, purtroppo. Nonostante ci siano alcuni scatti simpatici, infatti la grana di questo 400 ISO è davvero molto grossa. Cos'è grossa da somigliare ad un 1600, senza però averne la recittività luminosa. Ma andiamo a vedere in pratica che cosa voglio dire. Ok, andiamo a vedere. Stampe e rullo. Guarda che brave le Lomo persone che hanno fatto una scatolina con le foglie di Maria. Ah no no, non sono foglie di Maria. Niente, la rifaccio? Ok, bravi bravi, mi hanno fatto pure le stampe. La gentilezza continua. Allora, diamogli un'occhiata. Allora, diciamo che le stampe in generale sono venute peggio delle scansioni. Quindi facciamo così, andiamo a vedere le scansioni. Ok, andiamo ad analizzare le scansioni che invece conservano vagamente il loro perché. E che hanno? Molta grana, moltissima grana. La grana. Perciò se anche voi come me non amate la grana, lasciate perdere questa pellicola. Perché prima ancora che vivida nei blu e forte nei rossi, è una pellicola granulosa. Come se tutte le vostre immagini fossero ricoperte di micropuntini. Che poi sono i famosi grani d'argento dell'emulsione. Se poi ci focalizziamo sui colori, insomma, i rossi devo dire che sono piuttosto accesi. Anche se questa fotografia che vedete è un sovrimpressione, rappresenta proprio delle luci LED. E i blu, in effetti, sono talmente intensi che tutta la pellicola vira nei toni del blu. Perciò, insomma, dai, oneste le loro persone. La pellicola, questa color 92, sul sito di Lomography, è in vendita a 12,90 euro contro i 20,70 euro medi di una Kodak Portra 400. Perciò, è una pellicola economica se scattate di giorno a colori. Ma solo se fate acquisti massicci. Perché la spedizione vi costa 15 euro per un rullo e 8 euro per 10 rulli. In pratica, ho fatto un po' di calcolini matematici, se acquistate 10 color 92, spenderete in totale 137 euro. Mentre se comprate 10 Kodak 400, la spesa sarà circa, no, non sarà circa, sarà esattamente di 196 euro. Insomma, una differenza di 59 euro. Certo, poi, deve piacervi la grana, l'effetto definitivamente panche del risultato. Ciao l'amicia! Insomma, ma se questo è quello che cercate, è la pellicola che fa per voi. Perché comunque, è un bel risparmio. Se invece siete ticchismichis come me, allora fatevi spennare dalla Kodak e beatevi dal caldo risultato finale. Però poveri, eh? Sempre più poveri! Infine, anche se questo forse mi inviterebbe un video a parte, ma già che ci siamo ce lo piazziamo qui nel mezzo, mi sono trovata a provare questa piccola apparecchiatura, il Digitalizzamax. Questo qua. Uno scanner per pellicola adatto a tutte quelle persone che ci hanno fretta di vedere i propri scatti online. Insomma, che dopo aver scattato, in analogico, amano passare il loro tempo davanti ai programmi di post-produzione. 182? Se non sono morta sto per morire. Adesso tante persone mi odieranno. Perché dirò quello che sto dicendo? Però io non posso non dirlo. Perché ogni volta che una persona scansiona il proprio scatto analogico, un unicorno muore. A meno che uno non lo stia facendo con un Imacom o con uno scanner a tamburo. Ma se stiamo parlando di un progetto in pellicola a basso profilo e di matrice underground, allora vale tutto. Cioè, anche la scansione è casalinga. E non ce ne vogliono i nostri amati unircorni. Perciò testiamo questa creaturina e diamole le attenzioni di cui ha bisogno. Apriamo la scatola. Ci sono un sacco di cosine. Ok, ci siamo quasi. Ah, ecco qua. E voilà. A prima vista devo dire che si presenta di un materiale bello solido. Per il prezzo di vendita, che è 99 euro, mi aspettavo decisamente qualcosa di molto più plasticoso. Insomma, un trabicolo di plastica. Invece devo dire che, insomma, per il prezzo il materiale è più... L'amica, lei ha il suo protagonismo oggi, insomma, ecco. È un materiale bello resistente e in realtà tutto sommato, impacchettato, è così piccino che davvero me lo potrei portare anche in vacanza. Il prezzo è decisamente onesto, anzi, direi quasi economico. Ha la sua lucina, la sua calamitina, tutte le sue mascherine, tutti i suoi cosini. Adesso andiamo a montarlo. E perché è tutto molto pucci. Allora, ok, questo si mette qui. C'è anche la sua bolla, la bolla, la bolla. Questo si mette qui, ok. Adesso ve lo faccio vedere anche in questo modo. Ok, poi qua ci sono le mascherine. Le mascherine che vanno messe invece, penso, qui. Ok, ah sì sì, ok, ok. Quindi la mascherina, poi si può togliere questa e si può mettere la mascherina a 35 mm, che è quella che interessa a noi. Ce la mettiamo qui dentro, chiudiamo, rimettiamo tutto al suo posto e voilà. E colleghiamo alla corrente. Ok, questo è un kit basico, molto utile se volete utilizzare, insomma, se volete digitalizzare con il vostro cellulare. So che basta infilarlo qui, basta che stringete il cellulare, accendete la fotocamera, collegate il digitalizza max alla corrente, in modo che possiate accendere la luce e fate passare poi la vostra pellicola all'interno dello scanner. Adesso vi mostro come. A parte vi serve un cavo USB, perché deve essere collegato qua per poter accendere la luce. Lo faccio vedere, speriamo che si veda. Una volta montato, basta infilare la pellicola, qui dentro, la faccio vedere così, basta infilarla qui dentro e vi tolgo il telefono, così almeno potete vederlo meglio. La pellicola, retroilluminata, basta posizionare, come vi ho detto prima, il telefono con la parte della videocamera esattamente sopra la vostra pellicola e scattare. Se poi invertite i colori della fotocamera potete utilizzare questa attrezzatura anche solo per visionare i vostri negativi, invece di fare un classico provino a contatto prima di passare alla stampa, per esempio, potrebbe essere altrettanto utile. Se poi volete invece una scansione più professional, invece del telefono, potete utilizzare la vostra fotocamera digitale montata su un treppiedi. Quindi al posto del telefono potete montare, togliete il telefono, togliete anche magari questo attrezzo qui che comunque sia, vi impedisce una certa visuale, quindi basta proprio toglierlo da qui e montare la fotocamera su un treppiedi per appunto digitalizzare. Con questa rotellina mandate avanti i vostri rulli e voilà. Cioè, fammi capire, io scatto in pellicola e poi faccio uno scatto digitale allo scatto in pellicola? A colla ha apprezzato moltissimo il packaging della Lomo. Vero amore? Che bella scatolina! Ho voluto provare a scansionare un paio di pellicole fatte di recente per metterle a confronto e per mostrarvi anche, insomma, la qualità degli scansioni che si possono ottenere. Così che possiate farvi anche un'idea sul rapporto qualità-prezzo delle pellicole e degli scanner in questione. Anche perché scansionare a tamburo o anche con l'Imacom non è proprio molto economico, però devo dire che la qualità, cioè la differenza di qualità dalla scansione casalinga alla scansione invece con Imacom o con scanner a tamburo è davvero impressionante. Questa è una pellicola Lomo Chrome Color 92. Potete vedere l'intensità del colore proprio della pellicola, che è abbastanza scuro. E questa invece, vi faccio vedere, è una pellicola Kodak Portra 400. Come potete notare hanno fisicamente proprio dei colori differenti già di partenza, eh? Quindi, non so, vuoi la chimica dell'emulsione, vuoi la base di poliestere, vuoi il tipo di sviluppo utilizzato. Insomma, già di partenza le due superfici si presentano differenti. Questi che vedete in sovraimpressione sono due scatti digitalizzati con Imacom ad alta risoluzione. E questi altri invece sono gli stessi due scatti scansionati con il Digitalizza Max acquisiti con una Fujifilm X-T4 e un 52 mm. La differenza la potete notare anche voi, è visibile sia tra le due pellicole che tra le differenti scansioni, quindi nella qualità delle scansioni. Come dico sempre, la scelta del mezzo, e questo include anche la scelta della pellicola, quindi la scelta iniziale della pellicola da utilizzare, dipende dal tipo di lavoro che una persona ha in testa di fare e anche dal proprio obiettivo finale. Non è che un'immagine sia meglio dell'altra, se non per una questione di gusto personale estetico oppure di definizione, a cui insomma i nostri occhi sono ormai abituati. Dipende tutto da quello che vogliamo realizzare. Perciò ringrazio Lomography per avermi permesso di conoscere e di provare alcuni dei suoi prodotti e per produrre soprattutto dell'attrezzatura e dei rullini a prezzi molto competitivi per chiunque voglia semplicemente divertirsi a scattare in pellicola sia con che senza pretesa di artisticità. Personalmente non ho trovato questa pellicola aderente al mio senso estetico e al mio modo di produrre immagini e non ho trovato utile nemmeno per il mio percorso fotografico la scansione casalinga dato che odio passare il tempo al computer. Cioè è proprio una fatica per me scansionare digitalmente le fotografie, preferisco stamparle. Ma sono certa che qualche persona là nell'immenso mondo dell'internet guardando questo video abbia potuto trovare quello che cercava e che faceva proprio al caso suo. Anche perché insomma grazie all'Omography abbiamo davvero delle pellicole per tutte le tasche. Felice di esservi stata d'aiuto o almeno di compagnia vi ricordo di iscrivervi al mio canale per restare sempre aggiornati sulle ultime uscite paccherelle. Ciao! Ebbene sì, questo era un astronauta con in mano un pene di zucchero filato. Amore mio, che bella scatolina, molto carina, molto carina la scatolina, molto carina questa scatolina nella scatolina. Torniamo giù, che finiamo il video e vai con l'astronave. Sei pronta? Astronave? Ma no, non sei prisi. Fantastico.